Il treno regionale, 17, 0, 6, 7, di Trenitalia, delle ore 20.09, per Portogruaro-Caurle, è in partenza dal binario 7. Ferma, a. Venezia Porto Marghera, Venezia Mestre, Venezia Carpenedo, Gaggio Porta Est, Quarto Daltino, Meolo, Fossalta di Piave, Sandonà di Piave, Ceggia, San Stino di Livenza, Lison. Gentili signori, buonasera. Benvenuti, a bordo, del treno, regionale, 17, 0, 6, 7, di Trenitalia, per Portogruaro-Caurle. Il treno fermerà, a. Venezia Porto Marghera, Venezia Mestre, Venezia Carpenedo, Gaggio Porta Est, Quarto Daltino, Meolo, Fossalta di Piave, Sandonà di Piave, Ceggia, San Stino di Livenza, Lison. E, arriverà, a. Portogruaro-Caurle, alle ore, 21.21. Trenitalia vi augura buon viaggio. Siamo in arrivo, a. Venezia Porto Marghera. Siamo in arrivo, a. Venezia Mestre. Interscambio viaggiatori, diretti, a. Trieste Centrale, Roma Termini. Udine, Verona Porta Nuova. Siamo in arrivo, a. Venezia Carpenedo. Siamo in arrivo, a. Gaggio Porta Est. Siamo in arrivo, a. Quarto Daltino. Siamo in arrivo, a. Meolo. Siamo in arrivo, a. Fossalta di Piave. Siamo in arrivo, a. Sandonà di Piave. Siamo in arrivo, a. Ceggia. Siamo in arrivo, a. San Stino di Livenza. Siamo in arrivo, a. Lison. Siamo, in arrivo, a. Portogruaro-Caurle. Termina corsa del treno. I signori viaggiatori, possono provare, il treno regionale veloce, per Trieste Centrale.